I carabinieri della stazione di Lauro hanno tratto in arresto un ventenne del luogo resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La cattura è scattata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere remessa dal GIP e il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini condotte dai militari dell'arma i quali hanno messo la parola a fine ad un triste episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. I carabinieri attraverso uno scrupoloso lavoro di indagine portata avanti con doverosa sensibilità hanno accertato che il soggetto, già noto alle forze dell'ordine aveva posto in essere diverse condotte estorsive nei confronti dei genitori minacciandoli ed aggredendoli fisicamente, a volte anche distruggendo le suppelletti dell'abitazione li costringeva a corrispondergli insomme di denaro per soddisfare la sua esigenza di dipendenze da sostanze superfacenti. Le evidenze raccolte hanno permesso di tracciare a carico dell'indagato un quadro gravemente indiziario che riferito senza ritardo all'autorità ha consentito l'emissione della misura cautelare in esecuzione della quale il ventenne è stato tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Bellizio Irpino. Anche un altro ventenne è stato tratto in arresto a Solufra per il reato di lesioni personali gravi. Il giovane dell'agro Nolano è ritenuto responsabile di aver aggredito e colpito con violenti pugni e senza motivo un uomo di Avellino provocandogli fratture giudicate con 40 giorni di prognosi. Rintracciato e condotto in caserma dopo le formalità di rito, il ventenne è stato associato alla casa circondariale di Bellizio Irpino.